Il primo fattore da considerare per avere un successo dal punto di vista nutrizionale e non solo, è l'aderenza al protocollo. Quindi noi dobbiamo smettere di osservare il dito e non la luna, dobbiamo imparare a comprendere i principi che stanno alla base dei metodi per creare la nostra dieta, per creare il nostro percorso, per creare la nostra routine vincente. Il gioco è qui creare dei comportamenti semi-automatici che ci danno gratificazione e che ci permettono di mantenere il processo nel tempo, raggiungendo quello che è il nostro potenziale.